ciao ciao a tutti ragazzi sono andrei 18 bit come avete potuto vedere ho cambiato l'entro perché era decisamente troppo lunga questo nuovo vlog dove andremo in campeggio vi farò vedere la tenda e anche andremo a un grandissimo acquapark ragazzi cosa dire ci vediamo ciao Sì, 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 2 minuti. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.